Paul Duran-Ruel è stato uno dei più grandi mercanti del XIX secolo e forse uno dei più grandi in assoluto e quindi è un personaggio ideale con cui iniziare un ciclo dedicato a quelle che sono state le grandi figure, grandi protagonisti che hanno costruito il mercato dell'arte, il panorama dell'arte europea. Paul Duran-Ruel nasce nel 1831 da una famiglia colta, è un uomo abido di conoscenza, molto curioso ma anche molto schivo, di buone maniere, cattolico, di sani principi come si direbbe oggi. Però questo non lo ferma di fronte a essere anche molto scaltro nel momento del voler acquisire un'opera o addirittura l'intero atelier di un artista, di fronte al quale è disposto a contrarre debiti anche estremamente elevati e che più di una volta nel corso della sua vita, come vedremo, lo metteranno proprio sull'orlo del fallimento. 1851 è una data simbolica per Paul Duran-Ruel, giovane che si è formato sulle orme del padre, che da cartolaio e venditore di colori si è evoluto a gallerista e si sono formati entrambi gli occhi e la sensibilità e la conoscenza all'attivissimo Hotel Druo che è una fonte ancora oggi molto attiva dove si vende da bricca bracca alle grandi opere ed è stato sicuramente un luogo dove sono state fatte grandi fortune dove ci sono state anche delle grandi delusioni. 1855 è una grande occasione per Paul Duran-Ruel che ha la possibilità di aderire e di partecipare alla grande esposizione universale indetta da Napoleone III per avere una supremazia anche culturale e artistica rispetto al resto dell'Europa è la possibilità per gli artisti francesi di entrare in contatto con le grandi immagini iconiche del Giappone, in modo particolare di Okusai e di Roshige. Una capacità, una possibilità di ispirazione per gli artisti mai vista fino a quel momento e Paul Duran-Ruel capisce non solo l'importanza di questa nuova ventata di cultura che arriva in Francia ma soprattutto comincia a seguire alcuni degli artisti che vengono boicottati dall'Accademia e che invece nelle quali invece lui crede moltissimo. Fra questi in modo particolare ci sono Manet, Renoir e prima ancora c'era stato Eugène Delacroix e comincia a sostenerli in tutti i modi possibili e quando nel 1863 questi non vengono accettati e non passano la giuria per la grande esposizione del momento indice e costituisce e fonda quello che si chiama il Salon des Refusés, Salon des Refusés che poi si rifarà ancora nel 1869 e che finalmente dà la possibilità con l'approvazione sempre di Napoleone III che con un decreto chiede proprio che sia data la possibilità anche a chi viene rifiutato e chi in qualche maniera non aderisce ai dettami dell'Accademia di poter esporre le proprie opere. E' un grande successo. Il triennio fra il 1868 e il 1871 è molto significativo nella vita di Duran-Ruel. Inizialmente c'è il trasferimento della galleria da Roulapé a Roulaphit ma ancora più importante l'anno successivo, standogli stretta l'etichetta di mercante e di gallerista, decide di fondare una rivista, la Revue Internationale dell'Art e della Curiosité. È una rivista autonoma, non è l'organ della galleria, è una rivista che ha un suo direttore anche piuttosto polemico e anche piuttosto vivace e che gli permette di diventare uno dei luoghi, uno dei uomini dell'opinion leader più interessanti di Parigi. Il 1871 invece fu unestato dalla morte della moglie. Era molto legato, era un uomo devoto, era un uomo cattolico. La moglie era una spalla, era una compagna vera di vita. Lui si ritrova vedovo con cinque figli, ha un momento di vero scoraggiamento, di vera difficoltà, ma come abbiamo visto la determinazione, la forza e la passione per l'arte consentono a quest'uomo di riprendersi nell'arco degli anni successivi. Il rapporto con Degas si fortifica nel 1874, quando il pittore, che poi diventerà anche scultore, chiede a Nadar di poter fare una mostra monografica nel suo studio fotografico e Paul Duran-Ruel finanzia in toto cornici, la comunicazione e tutto quanto e Degas di questo gli sarà sempre riconoscente. Bisogna dire assolutamente lo sono tutti gli impressionisti, gli hanno sempre riconosciuto la forza, la determinazione, il credere in loro e in più occasioni ci sono state delle testimonianze quasi commoventi proprio da parte degli stessi artisti. Nel 1875 inizia una delle più incredibili avventure del intraprendente Duran-Ruel, il quale con la neonata banca Union General comincia a contrarre debiti proprio con la banca stessa che è appoggiata dalla chiesa e quindi lui ha dei rapporti assolutamente privilegiati e si indebita veramente oltremisura e nel 1882 quando la banca comincia ad avere problemi e chiede un rientro a Paul, la situazione veramente è quasi sull'orlo del fallimento perché appunto l'esposizione bancaria di Duran-Ruel è veramente enorme. Ma intraprendenza, determinazione e voglia di rivalsa non mancano certamente a Duran-Ruel e nello stesso anno compie il primo grande viaggio in America, va a Boston sul suggerimento di Mary Cassatt che ha conosciuto nel 1865. Mary Cassatt è una brillante americana, pittrice, molto conosciuta nell'ambito degli artisti impressionisti ma soprattutto viene da una famiglia altilocata, da una famiglia aristocratica e quindi può mettere Paul Duran-Ruel nella condizione di conoscere i grandi magnati americani che hanno bisogno di inalzare la proprio stato sociale e quindi potrebbero essere interessati, come è successo in passato, all'acquisizione di opere d'arte. La prima grande mostra a Boston è un fallimento, nonostante Duran-Ruel arrivi con una stiva piena di Baudin, Caillebeau, Manet, Monet, Sisley, Bert Morisot, ma insomma non riescono in alcun modo ad accogliere il pubblico, americano, ma come solito lui non demorde, è intraprendente. La prossima, la volta successiva, fa due mosse completamente diverse rispetto al primo viaggio che è poi nel 1886 e si appoggia al direttore dell'Art Association e questo gli permette di essere esposto in una condizione diversa e soprattutto di essere sostenuto da qualcuno del luogo. È di nuovo Mary Cassatt che viene in suo aiuto e lo presenta in quello che sarà una delle famiglie più interessanti e sicuramente più vicine a quella che sarà la fortuna della galleria di Duran-Ruel in America, gli Eve Mayer. È proprio la famiglia Eve Mayer che consente a Duran-Ruel di aprire la sua prima galleria a New York, sarà in Madison Avenue, è in 1887. È forte della grande acquisizione di pochissimi anni prima quando tra l'altro era proprio nel momento del fallimento con il rientro che aveva con la banca dell'Union Generale che Duran-Ruel aveva acquistato in collaborazione con un altro gallerista, Giorgio Petit, l'intero atelier di Manet composto da 169 lotti, tutti dell'atelier comprati dalla vedova. Ma molti dei magnati, di imprenditori americani non sono interessati solo all'impressionismo ma vorrebbero anche per mostrare il proprio talento, la propria forza e per aumentare loro, innalzare il loro stato sociale acquistano anche dipinti di antichi maestri e Duran-Ruel non si sottrae neanche a questa avventura e comincia a proporre Rembrandt in modo particolare ma non è il solo e di Rembrandt propone soprattutto il periodo più oscuro, quello più difficile, quello che gli europei forse in quel momento non cercano e riesce a comporre, a mettere, a costituire delle collezioni che sono veramente impagabili. L'impegno in America lo distrae però dal mercato francese e i suoi artisti che hanno sempre potuto godere del suo sostegno, della sua energia, non solo degli acquisti ma proprio di una presenza continua e costante di incoraggiamento si sentono un po' orfani e quindi per ridare vita e per rinverdire anche quello che è il mercato a Parigi decide di fondare per la seconda volta una rivista. È una rivista settimanale che esce a 10.000 copie e che diventa un punto imprescindibile per l'uomo di cultura di mondo del momento. Nello stesso tempo in quegli anni Monet si sposa per la seconda volta e con la sua numerosissima famiglia si sposta a Giverny dove farà il suo famoso lago con le ninfè che è fonte di grande ispirazione. Ma questi sono anni anche funestati dalla morte di Caillebaud, uomo di grande cultura che ha fondato il gruppo degli impressionisti, è l'uomo di equilibrio, l'uomo sereno di tutto il gruppo. Quattro, la Francia vive un periodo di grandi tensioni, la rottura fra il governo e il Vaticano portano a grandi tensioni nel paese e questo terremoto anticlericale colpisce nel profondo Duran-Ruel che per quanto i lutti lo abbiano un po' allontanato dalla sua forte, dalla sua fede cattolica rimane comunque un uomo convinto nell'importanza della chiesa. E quindi si rifugia a Londra, si rifugia a Londra e lo fa come il suo solito con una grande mostra che ha un grande successo dove vengono proposti 35 Renoir, Bert Morisot, Sisley, Gauguin. Come il suo solito riesce a impostare qualche cosa di grandioso, le prime fotografie della mostra suscitano veramente l'interesse del mondo intero. Non disdegna e non perde i suoi rapporti con l'America e nel 1917 fa ancora una grande mostra e il suo nome deve essere anche legato con quello dei suoi figli al primo grande centro di immigrazione aperto a Ellis Island appunto dalla famiglia Duran-Ruel. Si spegne nel 1922, si spegne un grand'uomo, si spegne un uomo colto, un uomo buono, un uomo avido di arte, un uomo che ha la capacità di ascoltare, un uomo con una determinazione fortissima che sa ascoltare i suoi artisti, li difende con una determinazione che non ha avuto forse nessun altro gallerista nella storia del mercato e della storia dell'Occidente. Muore un uomo che è stato un grande collezionista, muore forse uno dei più grandi galleristi che ci sia mai stato nella nostra epoca. Grazie a tutti.